Siamo di fianco all'opera di Lian Gillick in cui si cerca di recuperare improvvisamente ad un certo punto del nuovo millennio l'idea di astrazione da un lato, di geometria e di minimalismo, però in questo caso letto in maniera cromaticamente molto articolata. È una scelta da parte dell'artista che normalmente quando interviene sculturamente o negli ambienti crea proprio una nuova dimensione ambientale di percezione dello spazio.